Gentili telespettatori, buona giornata. Dopo Letta che dice che la Meloni è capace e molto meglio di quello che ci si aspettasse, arriva Bonaccini che dice che la Meloni è capace, la realtà è che lei è forte. E soprattutto dice che basta dire che è nostalgica, la Meloni va vinta alle urne, non in altri modi. E meglio di quanto ci aspettassimo, la realtà è che lei è forte ed è in piena luna di miele con gli italiani. Quindi dopo Letta anche Bonaccini. Ma gli altri candidati alla segreteria del PD comelli Schlein non ci sta perché lei dice che non si può dire queste cose, perché questo è il governo peggiore di sempre. Stessa cosa che dice anche Orlando, che dice la stessa cosa, ma come si fa a dire che è brava, che è capace. Questo è il governo peggiore di tutta la storia della Repubblica. E in serata Letta perde la pazienza, non ci sta a farsi mettere in mezzo. Che in realtà è una polemica che mira a colpire Bonaccini. Perciò fa diffondere una nota dal Nazareno in cui si definisce senza alcun fondamento la diatriba innescata da Orlando. Orlando se la prende e ribatte, poi si sfoga con i suoi, non accetta che si possano dire certe cose di Meloni, non dopo che due esponenti del suo partito hanno fatto dossieraggio contro quattro parlamentari del PD. Dossieraggio, cioè Donzelli e Del Mastro hanno raccontato quello che sono andati a fare quattro del PD da Lergastolano e dai mafiosi. Diciamo, hanno fatto una figuraccia perché è stato svelato il loro piano, è stato svelato quello che hanno raccontato, quello che hanno detto. Svelato, era uscito il giorno prima già su un giornale, attenzione, era la verità, la verità, non verità. Cioè era già una cosa già risaputa, però. E quindi Orlando, diciamo, hanno fatto dossieraggio contro quattro del PD. Insomma, quel dossieraggio ha svelato agli italiani chi sono veramente quelli del PD e che giochini fanno dietro le quinte per attaccare un governo che non sanno da che parte cominciare ad attaccare. Dossieraggio, mi vengono i brividi del dossieraggio. Bene, e così arriva poi la replica più tardi del governatore, o meglio, del presidente della regione Emilia-Romagna che dice che bisognerebbe evitare polemiche strumentali. Io la destra preferisco batterla alle urne, come ho dimostrato, e vorrei anche che altri avessero la priorità di batterla nelle urne e non con interviste sui giornali. Insomma, in quest'ultimo scorcio di campagna delle primarie, veleni e polemiche sono enormi, abbondanti. Il 26 di febbraio avrà finalmente il PD, dopo sei mesi, sei mesi per eleggere un nuovo capo pidino, il 26 finalmente ci sarà un nuovo capo politico, un nuovo segretario, che ovviamente molto, ma molto probabilmente, sarà Stefano Bonaccini, che intende fare una battaglia contro il governo, però fatta di fatti, di proposte. Cioè, un'opposizione... cosa deve fare un'opposizione? L'opposizione deve fare le pulci al governo, cioè deve mettersi lì e valutare criticamente l'operato del governo. Valutare l'operato del governo, se è giusto dire hanno fatto una roba giusta, se è sbagliato dire secondo noi è sbagliato, e fare anche delle proposte. Quindi non solo criticare se serve il governo, ma fare anche delle proposte. Fino ad oggi cosa è stato fatto? Nulla di questo. È stato criticato non il governo in merito alle cose, ma criticato in quanto cattivo. Dice perché? Non si sa. Il peggiore di sempre, perché? Non si sa. Ecco, viene oggi, fino ad oggi, il governo, il centrodestra, è stato criticato in quanto centrodestra, in quanto cattivo a prescindere, con un sacco di bagianate sui giornali, con anche parecchie ultimamente notizie completamente false, sui giornali che spalleggiano quest'area politica vuota. Mentre, e poi, quindi, criticare in quanto tali, criticare perché cattivi a prescindere. Però, nella critica non si va nel merito delle questioni, non si va nel merito delle questioni e pertanto non ci sono neanche delle controproposte, perché non ce le hanno, non sanno neanche che cosa pensare. Bonaccini dice, io devo criticare nel merito il fatto che vado a criticare. Cioè, se io vado a criticare la rottamazione, la cancellazione delle cartelle esattoriali, vado a criticarle perché le reputo immorali nei confronti di quelli che hanno pagato, però poi devo dire la mia. Noi non faremo mai una rottamazione delle cartelle esattoriali perché la reputiamo immorale, però noi, sotto quell'aspetto, la pensiamo in un questo modo e abbiamo delle proposte o non abbiamo delle proposte. Ecco, una critica motivata e possibilmente costruttiva, almeno. Questa è l'intenzione di Bonaccini. Poi dobbiamo vedere i fatti, perché poi magari si trasforma come Letta, Schlein e quello che c'era prima, il capopolitico che c'era prima, Zingaretti torna ad essere il classico che dice che sono cattivi a prescindere. Però Bonaccini ha sempre detto, io non vado a criticare solo perché devo criticare, perché l'opposizione non si fa criticando a prescindere tutto quello che fanno e poi andando evidentemente anche contro gli italiani. Perché poi, quando tu critichi tutto quello che fa il governo a prescindere, poi vai contro gli italiani. Ad esempio, sia i rave party, perché poverini devono ballare, che vanno nei terreni abusivi, nei capannoni privati. Ecco, alla fine diventi un anti-italiano perché devi per forza dire che quello che fa il governo è sbagliato. Il governo dice che non possiamo cancellare dal 2035 le auto, vendere le auto. La sinistra vota contro e fa la figura anche lì di essere anti-italiana perché deve andare contro quello che fa il governo anche in Europa. Quindi passano per anti-italiani come già succede da diverso tempo. Grazie a tutti per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti e grazie.